Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santo Padre, Venerabili Padri, Fratelli e Sorelle, continuiamo e terminiamo oggi la nostra contemplazione di Maria nel mistero pasquale. Oggetto della presente riflessione è la parola che Gesù rivolge dalla croce a sua madre e al discepolo che egli amava. Gesù allora, vedendo la madre, e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. In avendo scorso, al termine delle nostre considerazioni su Maria nel mistero dell'incarnazione, abbiamo contemplato Maria come madre di Dio. Ora, al termine delle nostre riflessioni su Maria nel mistero pasquale, la contempliamo come madre dei cristiani, come madre nostra. Dobbiamo subito precisare che non si tratta di due titoli, di due verità da porre sullo stesso piano. Madre di Dio è un titolo definito solennemente nel concilio ecumenico di Efeso. Si basa su una maternità reale, non solo spirituale. Ha un rapporto strettissimo con la verità centrale della nostra fede, cioè che Gesù Cristo è uomo e Dio nella stessa persona. Ed è, infine, un titolo universalmente accolto nella Chiesa. Madre dei credenti, o madre nostra, indica una maternità spirituale, che ha un rapporto meno stretto con la verità centrale del credo. Non si può dire che sia stato ottenuto nel cristianesimo ovunque, sempre e da tutti, ma riflette la dottrina e la pietà di alcune Chiese, e in particolare della Chiesa cattolica. Anche se non la sola. Sant'Agostino ci aiuta a cogliere subito la somiglianza e la differenza tra le due maternità di Maria, la madre di Dio e madre nostra. Scrive Maria, corporalmente, è madre solo di Cristo, mentre spiritualmente, in quanto fa la volontà di Dio, gli è sorella e madre. Madre nello spirito, ella non lo fu del capo, che è lo stesso Salvatore, dal quale piuttosto spiritualmente è nata, ma lo è certamente delle membra, che siamo noi, perché cooperò con la sua carità alla nascita nella Chiesa dei fedeli, che di quel capo sono le membra. Il nostro scopo, in questa ultima meditazione quaresimale, vorrebbe essere quello di vedere tutta la ricchezza che c'è dietro questo titolo e il dono di Cristo che esso contiene, in modo da servircene non solo per onorare Maria con un titolo in più, ma per edificarci nella fede e per crescere nell'imitazione di Cristo. Anche la maternità spirituale di Maria, nei nostri confronti, analogamente a quella fisica, nei confronti di Gesù, si realizza attraverso due momenti e due atti, concepire e partorire. Maria è passata attraverso questi due momenti, ci ha spiritualmente concepiti e partoriti. Ci ha concepiti, cioè alla lettera ci ha presi insieme col Figlio, ci ha accolti in sé e lo ha fatto nel momento stesso della sua chiamata, nell'Annunciazione. E in seguito, a mano a mano, che Gesù avanzava nella sua missione. E l'è venuto scoprendo che quel Figlio non era un Figlio come gli altri, una persona privata, ma che era il Messia atteso, che intorno a Lui si andava formando una comunità. Questo fu dunque il tempo del concepimento, del sì del cuore. Ora, sotto la croce, è il momento del travaglio del parto. Gesù in questo momento si rivolge alla madre chiamandola Donna. Donna, ecco tuo figlio. Conoscendo l'abitudine dell'Evangelista Giovanni di parlare oltre che direttamente, anche per allusioni, simboli e rimandi, questa parola fa pensare a ciò che Gesù aveva detto. La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora. E ciò che si legge nell'Apocalisse, della donna incinta che gridava per le doglie del parto. Anche se questa donna è in prima linea la Chiesa, la comunità della Nuova Alleanza, che dà alla luce l'uomo nuovo, il mondo nuovo, Maria vi è coinvolto ugualmente in prima persona come l'inizio e la rappresentante di quella comunità credente. Questo accostamento tra Maria e la figura della donna biblica è stato, ad ogni modo, recepito presto dalla Chiesa. Sant'Ireneo, che era un discepolo di San Policarpo, il quale era un discepolo di Giovanni, dell'Evangelista, vede in Maria la Nuova Eva, la madre di tutti i viventi. Ma volgiamoci ormai al testo di Giovanni per vedere se esso contiene già qualcosa di questo che andiamo dicendo. Le parole di Gesù a Maria, donna ecco tuo figlio, e a Giovanni ecco la tua madre, hanno certamente un significato anzitutto immediato, quanto mai concreto. Gesù affidava a Maria, a Giovanni, e Giovanni a Maria. Ma questo non esaurisce il significato della scena. L'esegesi moderna, avendo fatto enormi progressi nella conoscenza del linguaggio e dei modi espressivi del quarto Vangelo, ne è ancora più convinta che al tempo dei padri della Chiesa. Se si legge il brano di Giovanni unicamente in una chiave spicciola, quasi di ultime disposizioni testamentarie, esso risulta, è stato detto, un pesce fuor d'acqua e anzi una dissonanza nel contesto in cui si trova, in cui tutto è anche allegorico, oltre che reale. Per Giovanni il momento della morte è il momento della glorificazione di Gesù, del compimento definitivo delle scritture e di tutte le cose. Ogni frase e ogni parola in questo contesto ha un significato anche simbolico e allude al compimento delle scritture. Dato questo contesto, è più una forzatura del testo in non vedervi che un significato privato, personale, che il vedervi con l'esegesi tradizionale ha anche un significato universale ed ecclesiale, legato alla figura della donna di Genesi o la donna dell'Apocalisse. Questo significato ecclesiale è che il discepolo non rappresenta qui solo Giovanni, ma il discepolo di Gesù in quanto tale, cioè tutti i discepoli, noi compresi. Essi sono nati da Maria e da Gesù morente come Suoi figli, allo stesso modo che Maria è data ad essi come loro madre. Le parole di Gesù a volte descrivono qualcosa che è già presente, cioè rivelano ciò che esiste, altre volte invece creano e fanno esistere quello che dicono, che esprimono. E a questo secondo ordine appartengono le parole di Gesù morente a Maria e a Giovanni. Dicendo questo è il mio corpo, Gesù rendeva il pane il suo corpo nell'Eucaristia. Così fatte le debite proporzioni, dicendo ecco tua madre e a Giovanni ecco e a Maria ecco tuo figlio, Gesù istituisce Maria, madre di Giovanni e Giovanni figlio di Maria. Gesù non si è limitato a proclamare la nuova maternità di Maria, ma per così dire l'ha istituita. Essa dunque non viene da Maria, ma dalla parola di Dio. Non si basa sul merito, ma sulla grazia. Sotto la croce Maria ci appare dunque come la figlia di Sion, che dopo il lutto e la perdita dei suoi figli, riceve da Dio una nuova figliolanza, più numerosa di prima, non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Un salmo che la liturgia della Chiesa applica spesso a Maria dice ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion l'uno e l'altro è nato in essa. Il Signore scriverà nel Libro dei Popoli la costui è nato. È vero, tutti là siamo nati. Si dirà anche di Maria la nuova Sion l'uno e l'altro è nato in essa. Di me, di te fratello, sorella, di ognuno, anche di chi non lo sa, nel Libro di Dio è scritto la costui è nato. Da Maria costui è nato. Ma non siamo stati rigenerati dalla parola di Dio viva ed eterna come dice la prima lettera di Pietro? Non siamo nati da Dio come dice Giovanni nel Prologo e rinati dall'acqua e dallo Spirito? Verissimo. Ma ciò non toglie che in un senso diverso, subordinato e strumentale siamo nati anche dalla fede e dalla sofferenza di Maria. Se Paolo che è un servo e un apostolo di Cristo può dire ai suoi fedeli sono io che vi ho generato in Cristo mediante il Vangelo quanto più può dirlo Maria che ne è la madre? Chi più di lei può fare sue le parole dell'Apostolo figlioli miei che io di nuovo partorisco nel dolore? Questa è prima Corinti 4. Ella ci partorisce di nuovo sotto la croce perché ci ha già partorito una prima volta non nel dolore ma nella gioia quando ha dato al mondo la parola viva ed eterna cioè Cristo. La dottrina tradizionale cattolica di Maria madre dei cristiani ha ricevuto una nuova formulazione nella Costituzione sulla Chiesa del Concilio Vaticano Secondo dove è inserita nel quadro più ampio riguardante il posto di Maria nella storia della salvezza e nel mistero di Cristo leggiamo un testo concependo Cristo generandolo nutrendolo presentandolo al padre nel tempio soffrendo col figlio suo morende in croce Maria cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore con l'obbedienza la fede la speranza e l'ardente carità per restaurare la vita soprannaturale delle anime per questo ella è diventata per noi madre nell'ordine della grazia questa è la Costituzione Lumen Gentium 61 la novità più grande di questa trattazione sulla Madonna consiste come si sa proprio nel posto in cui essa è inserita e cioè nella trattazione sulla Chiesa la Lumen Gentium con ciò il Concilio non senza sappiamo sofferenze e lacerazione attuava un profondo rinnovamento della Mariologia rispetto a quella degli ultimi secoli almeno il discorso su Maria non è più a sé stante come se ella occupasse una posizione intermedia tra Cristo e la Chiesa ma è ricondotto nell'ambito della Chiesa come era all'epoca dei padri Maria è vista come diceva Sant'Agostino come il membro più eccellente della Chiesa ma un membro di essa non al di fuori o al di sopra di essa scrive Sant'Agostino Santa e Maria Beata e Maria ma più importante è la Chiesa che non la Vergine Maria perché perché Maria è una parte della Chiesa un membro santo eccellente superiore a tutti gli altri ma tuttavia un membro di tutto il corpo se è un membro di tutto il corpo senza dubbio più importante di un membro è il corpo questo è il caso teologico più evidente della verità della sioma caro a Papa Francesco che il tutto è superiore alla parte questa sioma non si realizza evidentemente nella Trinità perché in essa grazie alla pericoresi allo scambio delle proprietà in ogni parte in ogni persona c'è il tutto si realizza invece nella Chiesa che il tutto è superiore alla parte subito dopo il Concilio San Paolo VI sviluppò ulteriormente l'idea della maternità di Maria verso i credenti attribuendo a lei esplicitamente e solennemente il titolo di madre della Chiesa sentiamo a gloria dunque della Vergine e a nostro conforto noi proclamiamo Maria Santissima madre della Chiesa cioè di tutto il popolo di Dio tanto dei fedeli come dei pastori che la chiamano madre amorosissima e vogliamo che con tale titolo suavissimo d'ora innanzi la Vergine venga ancor più onorata e invocata da tutto il popolo cristiano è giunto però il momento venerati i padri fratelli e sorelle di passare dalla contemplazione di un titolo di Maria come facciamo di solito alla sua imitazione di considerare cioè Maria nel suo aspetto di figura e specchio della Chiesa e l'applicazione è semplice dobbiamo imitare Giovanni prendendo Maria con noi nella nostra vita come detto di Giovanni che l'ha presa con sé e il discepolo l'ha presa con sé dicevano e sta idea si pensa troppo poco a ciò che questa breve frase contiene dietro di essa c'è una notizia di enorme portata storicamente sicura perché data dalla persona stessa interessata Giovanni Maria passò gli ultimi anni della vita con Giovanni ciò che si legge nel quarto Vangelo a proposito di Maria a Cana di Galilea e sotto la croce fu scritto da uno che viveva sotto lo stesso tetto con Maria poiché è impossibile non ammettere un rapporto stretto se non di identità come si pensa con la tradizione tra il discepolo che Gesù amava è l'autore del quarto Vangelo la frase e il verbo si fece carne fu scritta da uno che viveva sotto lo stesso tetto con colei nel cui seno questo miracolo si era compiuto sono cose da brivido brivido spirituale chi può dire cosa significò per il discepolo che Gesù amava avere con sé in casa giorno e notte Maria pregare con lei con lei consumare i pasti averla davanti come ascoltatrice quando parlava ai fedeli celebrare con lei il mistero del Signore è pensabile che Maria sia vissuta nella cerchia dei discepoli che Gesù amava del discepolo che Gesù amava senza che abbia avuto nessun influsso nel lavorio che ha portato alla scrittura del quarto vangelo nell'antichità fu origene uno scrittore del terzo secolo che intuì il segreto che c'è sotto questo fatto al quale gli studiosi del quarto vangelo danno poca attenzione dunque origene nel terzo secolo scriveva primizia dei vangeli è quello di Giovanni il cui senso profondo non può essere colto da chi non abbia poggiato il capo sul petto di Gesù e non abbia ricevuto da lui Maria come sua madre fine della citazione ora ci domandiamo cosa può significare concretamente per noi prendere Maria nella nostra casa qui credo si inserisce il nucleo sobrio e sano della spiritualità monfortana dell'affidamento a Maria esso consiste cito la lettera nel fare tutte le proprie azioni per mezzo di Maria con Maria in Maria e per Maria per poterle compiere in maniera più perfetta per mezzo di Gesù con Gesù in Gesù e per Gesù questo era il motto sappiamo caro San Giovanni Paolo II che ne trasse da qui il suo motto totus tus scrive dunque San Luigi Grignon de Montfort dobbiamo abbandonarci allo spirito di Maria per essere mossi e guidati secondo il suo volere dobbiamo metterci e restare tra le sue mani virginali come uno strumento tra le mani di un operaio come un liuto tra le mani di un abile suonatore dobbiamo perderci e abbandonarci lei come una pietra che si getta nel mare è possibile fare tutto ciò semplicemente e in un istante con una sola occhiata interiore o un lieve movimento della volontà o anche con qualche breve parola qualcuno ha obiettato in questo modo non si usurpa il posto dello spirito santo nella vita cristiana dal momento che è dallo spirito santo che ci dobbiamo lasciare condurre è lui che dobbiamo lasciare operare e pregare in noi non è scritto che il cristiano deve fare ogni cosa nello spirito santo questo inconveniente di attribuire almeno di fatto tacitamente a Maria le funzioni proprio dello spirito santo nella vita cristiana dobbiamo ammetterlo è stato presente in certe forme di devozione mariana anteriore al concilio esso era dovuto alla mancanza di una chiara e operante coscienza del posto dello spirito santo nella chiesa lo svilupparsi di un forte senso della pneumatologia cioè della presenza dello spirito santo non porta però minimamente alla necessità di rifiutare questa spiritualità dell'affidamento a Maria ma solo ne chiarisce la natura Maria è precisamente uno dei mezzi privilegiati attraverso cui lo spirito santo può guidare le anime e conturle alla somiglianza con Cristo proprio perché Maria fa parte della parola di Dio ed è essa stessa una parola di Dio in azione in questo Grignon de Montfort anticipa quando il concilio quando scriveva lo spirito santo che è sterile in Dio cioè non dà origine ad un'altra persona divina è divenuto fecondo per mezzo di Maria da lui sposata Maria sposa dallo spirito santo continua con lei in lei e da lei egli ha realizzato il suo capolavoro che è un Dio fatto uomo e tutti i giorni sino alla fine del mondo dà vita ai membri del corpo di questo capo adorabile perciò quanto più lo spirito santo trova Maria sua cara e indissolubile sposa in un'anima tanto più diviene operoso e potente per formare Gesù Cristo in quest'anima e quest'anima in Gesù Cristo fine della citazione la frase adiesum per Maria cioè a Gesù attraverso Maria è accettabile solo intesa nel senso che lo spirito santo ci guida Gesù servendosi di Maria la mediazione creata di Maria tra noi e Gesù ritrova tutta la sua validità se compresa quale mezzo della mediazione increata che è lo spirito santo ricorriamo per capire un'analogia per così dire dal basso Paolo esorta i suoi fedeli a guardare ciò che fa lui e fare anche essi come vedono fare lui dice nella lettera ai filippesi ciò che avete imparato ricevuto ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare ora è certo che Paolo non intende mettersi al posto dello spirito santo semplicemente pensa che imitarlo significa assecondare lo spirito dal momento che pensa di avere anche lui lo spirito di Dio questo vale a forzi orie cioè a maggior ragione per Maria e spiega il senso del programma di fare tutto con Maria e come Maria ella può dire davvero come Paolo e più di Paolo fatevi imitatori miei come io lo sono di Cristo ella è il nostro modello e maestra proprio perché perfetta discepola e imitatrice di Cristo questo significa in senso spirituale prendere Maria con sé prenderla come compagna e consigliera sapendo che essa conosce meglio di noi quali sono i desideri di Dio a nostro riguardo se si impara a consultare ed ascoltare in ogni cosa Maria essa diventa davvero per noi una maestra impareggiabile nelle vie di Dio che insegna dentro senza strepito di parole non si tratta di una possibilità astratta teologica ma di una realtà di fatto sperimentata oggi come in passato da innumerevoli anime prima di concludere venerabili pari fratelli e sorelle la nostra contemplazione di Maria nel mistero pasquale presso la croce vorrei che dedicassimo ancora un pensiero a lei come modello di fede e di speranza viene un'ora nella vita in cui ci occorre una fede e una speranza come quelle di Maria è quando Dio sembra non ascoltare più le nostre preghiere quando si direbbe che smentisca se stesso e smentisca le sue promesse quando ci fa passare di sconfitta in sconfitta e le potenze delle tenebre sembrano trionfare su tutti i fronti intorno a noi quando si fa buio dentro di noi come si fece buio quel giorno sul Calvario su tutta la terra quando arriva per te quest'ora fratello sorella ricordati della fede di Maria e grida anche tu come hanno fatto tanti padre mio non ti capisco più ma mi fido di te forse Dio ci sta chiedendo proprio ora di sacrificargli come abramo il nostro Isacco cioè la persona o la cosa il progetto la fondazione o l'ufficio che ci è caro che Dio stesso un giorno ci ha affidato per il quale abbiamo lavorato tutta la vita forse e questa è l'occasione che Dio ci offre per mostrargli che Egli ci è più caro di tutto anche dei suoi doni anche del lavoro che facciamo al suo servizio ad Abramo Dio disse diventerai padre di una moltitudine di nazioni e dopo il sacrificio di Isacco ancora perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio il tuo unico figlio io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra perché tu hai obbedito alla mia voce lo stesso e molto di più dice ora Maria madre di molti popoli ti renderò madre della mia chiesa nel tuo nome saranno benedette tutte le stirpi della terra tutte le generazioni in verità ti chiameranno beata è scritto che quando giuditta tornò tra i suoi dopo avere messo a repentaglio la propria vita per il suo popolo uccidendo Loferne gli abitanti della città le corsero incontro e il sommo sacerdote la benedisse dicendo benedetta tu figlia davanti a Dio altissimo più di tutte le donne che vivono sulla terra il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini bene le stesse parole noi rivolgiamo a Maria benedetta tu fra le donne il coraggio che hai avuto sul calvario non cadrà mai dal cuore e dal ricordo della chiesa riassumiamo tutta la partecipazione di Maria al mistero pasquale per finire applicando a lei con le dovute differenze le parole con le quali San Paolo ha riassunto il mistero pasquale di Cristo Maria pur essendo la madre di Dio non considerò un tesoro geloso questo suo rapporto unico con Dio ma spogliò se stessa di ogni pretesa assumendo il nome di serva e apparendo all'esterno simile a ogni altra donna visse nell'umiltà e nel nascondimento obbedendo a Dio fino ad accettare la morte del figlio e la morte di croce per questo Dio l'ha esaltata e le ha dato il nome che dopo quello di Gesù è al di sopra di ogni altro nome perché nel nome di Maria ogni capo si chini nel cielo sulla terra e sotto terra e ogni lingua proclami che Maria è la madre del Signore a gloria di Dio Padre Amen Santo Padre venerabili Padre fratelli e sorelle buona e santa Pasqua a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.